Il Padre tuo è vicino a te. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo con gioia la parola di Dio che cambia il nostro cuore. Leggiamo insieme il Vangelo secondo Matteo, capitolo VI, dall'1 al 18. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli, «State attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te, come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade, per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina, non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate, non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando digiunate, non diventate malinconici, come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa e lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo è il Padre tuo che è nel segreto. È il Padre tuo che vede nel segreto, ti ricompenserà. A me. Carissimi, questo capitolo sesto si apre con delle ammunizioni da parte di Gesù, degli avvertimenti. Innanzitutto dice, state attenti. Lo dice molte volte. State attenti a praticare la giustizia, non per essere visti e ammirati dagli altri. State attenti, e quando fate l'elemosina, a non suonare la tromba, a far vedere a tutti che donate. State attenti quando pregate a non essere simili agli ipocriti che si fanno vedere, che pregano. E infine, state attenti a quando digiunate, a non assumere un atteggiamento triste e malinconico per far vedere che state digiunando. Allora, innanzitutto, dobbiamo calarci oggi in un contesto che è totalmente diverso da duemila anni fa. Tra l'altro in un contesto oggi europeo. Siamo in Italia. Qui eravamo in Terra Santa. Nei luoghi dove gli ebrei pregavano in un modo, con una categoria, con uno stile anche. Quindi, aggiornare e attualizzare il Vangelo di oggi è molto importante, altrimenti noi non potremo mai comprendere quello che Gesù stesso non solo diceva duemila anni fa, ma sta dicendo a me, a te, oggi. Perché parla di tre aspetti. Elemosina, preghiera, digiuno. Noi ce li ricordiamo, soprattutto quando normalmente iniziamo, entriamo nel cammino di Quaresima. Le armi dello Spirito. Le armi che Gesù ci ha insegnato. Preghiera, elemosina, digiuno. Questo dovrebbe accompagnarci tutto l'anno, tutta la vita. Non solo nel tempo di Quaresima. Ecco perché parliamo di elemosina. Elemosina non è sinonimo di dare la carità a qualcuno che passa, che vedo per la strada. Elemosina è sinonimo di dare. E Gesù lo dirà proprio nel discorso della montagna. date e riceverete. La generosità è parte fondamentale dell'essere cristiano. Un dare che si può manifestare in beni materiali, in soldi, in tempo, in aiuto, in servizio. E' un dare parte di ciò che noi siamo, di ciò che noi abbiamo. Ecco l'elemosina. Ma noi poco crediamo all'elemosina. Poco crediamo al dare. C'è una benedizione, dice Gesù, che è più forte in colui che dà che non in colui che riceve. Perché Gesù ha detto che quanto voi date, tutto questo sarà moltiplicato. voi riceverete cento volte tanto. Pensate che, ha detto anche ai celebbi, per il regno dei cieli, voi che mi avete seguito, riceverete cento volte tanto in case, proprietà, famiglie, e beni, e tutto quello che avete bisogno con la vita eterna. Quando i discepoli hanno detto a Gesù, Signore, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Ecco che quindi l'elemosina, la generosità, è fondamentale per noi. Nel fare l'elemosina, noi dobbiamo essere sobri, cioè non fare vedere a tutti che stiamo donando. Questo è l'atteggiamento primo. Secondo, la preghiera. Innanzitutto si presuppone che preghiamo, che il cristiano preghi. Ecco, dice, non fatevi vedere. Innanzitutto stava parlando ai farisei, o stava parlando dei farisei, di un atteggiamento. Potremmo dire andare in chiesa, perché altri atteggiamenti oggi non ne vediamo per la strada, almeno nella nostra cultura. Andare in chiesa, farsi vedere che tu ci sei, che tu preghi, che è un atteggiamento. Cioè, un pregare per mostrare che sei giusto. Ma ciò non vuole indicare la forma, la modalità, perché io posso pregare con le braccia aperte. Ma il Signore mi sta dicendo prega con il tuo cuore, prega con tutto te stesso, fratelli e sorelle. E qui sta parlando genericamente di preghiera. Non ha detto che tutti i cristiani devono chiudersi in stanza e pregare. Questa è una lettura superficiale, assoluta. E non va bene. Dio, Padre, vuole che tu abbia una relazione personale con Lui, perché è vicino a te il Padre tuo, che nel segreto ti ricompenserà. ecco allora che la nostra preghiera non deve essere esteriore, superficiale, dice il Signore, ma deve essere fatta con il cuore, con tutto noi stessi. Israele conosceva bene come pregare, come amare Dio, con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. E noi a volte ci vergogniamo di come muoviamo le mani, siamo tutto ranicchiati. Apriamoci a Dio. Amiamo Dio con tutto il cuore, la mente, le forze, con tutto il nostro corpo. A Lui apparteniamo. Non diamo a Dio una parte che nemmeno noi sappiamo che esista, spirituale, mentale. E poi nella nostra vita pratica siamo felici, allegri. E a Dio cosa diamo? Diamo la gioia, la gioia di vivere, la gioia di lodarlo. Questo è pregare il nostro Padre nel segreto, non è nasconderci, è pregare insieme. Ma questo lo vedremo più avanti, sempre nel capitolo sesto del Vangelo secondo Matteo. E infine il digiuno, se digiuniamo, anche questo è un altro aspetto, per quello dico caliamoci nel contesto di oggi. Non è una dieta, e il digiuno è un'arma spirituale contro il male nella nostra vita. Certi diavoli che ci sono, che esistono. Noi come comunità, con un'unica Giovanni Battista, come consacrati, tutto l'anno, ogni settimana, dal giovedì pranzo fino a venerdì cena, facciamo digiuno. Non prendiamo cibo. A casa il venerdì un frutto, tanto per non crollare, però il digiuno è forte, il digiuno è un'arma spirituale, dobbiamo crederci. Non penso che sia il caso della nostra cultura italiana, di camminare per le strade sfigurati perché digiuniamo, perché nessuno lo fa. Ma noi invece prendiamo questa parola sapendo che non mangiare significa fare prendere coscienza al nostro corpo che è spirituale e che non è lui a decidere, ma il nostro spirito che governa sulla carne e che abbiamo forza, potenza nell'intercessione attraverso il digiuno. E allora, fratelli e sorelle, chiediamo che Dio moltiplichi queste tre armi spirituali affinché noi con l'elemosina, con la preghiera, il digiuno, possiamo sentire che il nostro Padre è al nostro fianco, è vicino a Te e vuole che lo lodiamo con tutto il nostro essere, che doniamo agli altri con il nostro cuore e che digiuniamo per ricevere la Sua grazia. Signore Gesù, veniamo a Te oggi con tutto il cuore, la mente, le forze per essere Tuoi discepoli, per essere coloro che Ti seguono, che ascoltano la Tua parola e la mettono in pratica. Aiutami oggi ad avere un cuore disponibile e generoso. Aiutami oggi a pregare con sincerità. Aiutami oggi, Signore, a venire a Te con un cuore aperto e disponibile. E soprattutto donami di riscoprire il digiuno nella mia vita da cristiano. Digiuno per ottenere, per sperimentare la Tua grazia che è forte in tutta la mia vita. A Te, Signore, l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Cari amici, lo slogan di oggi è questo, il Padre Tuo è vicino a Te. E proprio perché è vicino a noi, allora siamo generosi. Preghiamolo con tutto noi stessi. Digiuniamo in Lui e faremo una nuova esperienza del Suo amore. grazie che mi avete accolto, buona giornata, a domani. Ciao. Tu sei sacerdote per sempre Cristo Signore Tu sei sacerdote per sempre Cristo Signore Tu sei sacerdote sacerdote per sempre Cristo Signore Lo scettro del Tuo potere stende il Signore da sì Domino. Domino. Domino.